C'è un nuovo tipo di acido ialuronico che permette con una sola prodotto di ottenere due azioni, quelle di irratazione profonda ma anche quella di stretching delle rughe sottili. Quali sono le rughe sottili? Sono le rughe dinamiche, quelle del contorno occhi, del contorno labbra, le rughe della glabella, quelle fra le sopracciglia o le rughe della fronte. Ha un'azione molto valida nell'idratare in profondità la pelle quindi non solo abbiamo più acqua a livello dermico ma favoriamo i processi cellulari quindi il turnover cellulare ma un'azione interessantissima anche quando iniettato più in superficie con aghi sottilissimi nel distendere le piccole rughe. Abbiamo una distensione estremamente naturale, il prodotto non si intravede ma ottiene degli effetti veramente interessanti su quello che è il diminuire la visibilità delle rughe sottili. Quindi manteniamo la mimica, manteniamo l'espressività ma riusciamo ad avere rughe meno profonde per le più idratate, più tonica, più luminosa. Allora il gummy smile innanzitutto è l'esposizione nel sorriso di una porzione troppo ampia di gengiva quindi quando uno sorride espone la gengiva in modo eccessivo. Viene chiamato anche sorriso cavallino perché effettivamente non è un sorriso esteticamente gradevole. Abbiamo con il nostro gruppo, con il professor Sito, il dottor Cavallini, il dottor di aspro è evidenziato due tecniche che possono correggere il gummy smile con l'utilizzo dell'acido ialuronico. Questo permette una correzione sicura, duratura nel tempo e estremamente valida e immediata perché il paziente vede subito la correzione per cui esponendo meno la gengiva ha un sorriso esteticamente più gradevole. Un trattamento ambulatoriale che dura pochi minuti ma in realtà poi nel tempo ha una durata estremamente valida perché supera l'anno di durata con iniezioni fatte in ambulatorio in pochi minuti. Non è doloroso perché applichiamo l'anestetico prima dell'iniezione, sono esclusivamente due i punti di iniezione e quindi riusciamo veramente ad avere una correzione validissima in un tempo molto breve. L'acido ialuronico che iniettiamo è un acido ialuronico che si integra molto bene al tessuto e pertanto non è palpabile, non è visibile durante il sorriso, correzione estremamente naturale di un inestetismo che colpisce moltissimo anche le persone giovani in un'età compresa tra i 20 e i 30 anni con una predominanza della donna rispetto all'uomo e un rapporto di 2 a 1.